Dunque, abbiamo visto e è stato sottolineato ampiamente come il trattamento dell'infedema sia congenito che acquisito debba necessariamente essere rappresentato da una combinazione di più provvedimenti, abbiamo visto farmacologici, chirurgici e non ultimi per importanza fisioterapici. Ora, indipendentemente dalla strategia terapeutica adottata, penso che l'imperativo di ognuna delle strategie sia quello di cercare di interrompere il prima possibile quella che è la cascata evolutiva tipica dell'infedema. La cascata, la vediamo nel suo complesso, rappresenta la caratteristica fisio-patologica più spiccata, parte da un aumento della concentrazione proteica per passare tramite un'infiammazione cronica sterile, abbiamo sentito prima a livello interstiziale, fino ad arrivare alla fibrosi tessutale. Ora, gli altri obiettivi delle strategie adottate sono rappresentate dal tentativo, per quanto possibile, di arrestare, controllare questa evoluzione, di provvedere alla riduzione del volume della consistenza, non solo a breve termine, ma anche a medio e a lungo termine, cercare di evitare l'evoluzione verso il processo fibrotico, ridurre i rischi di infezione e provvedere, cosa molto importante, in un approccio olistico al paziente affetto dall'infedema, provvedere anche a un giusto supporto psicologico. Questo anche per cercare di stimolare la compliance del paziente è stato ribatito, è stato sottolineato come in realtà all'interno del trattamento, e in particolare quello riabilitativo dell'infedema, la compliance sia un elemento fondamentale. Chi si occupa giornalmente del trattamento fisico dell'infedema sa bene come questo aspetto possa dettare i tempi, i ritmi, nonché le modalità terapeutiche, influenzandole non poco gli esiti finali. Ora, allo stato attuale delle conoscenze, e anche sulla base di quanto evidenziato dalle linee guida sia nazionali che internazionali, qui ho riportato un accenno bibliografico in riferimento al consensus document della Società Internazionale di Linfologia, per quanto riguarda l'ambito riabilitativo è evidente come l'approccio deve essere, anche in questo caso, multidisciplinare e combinato. Ma in cosa consiste la cosiddetta terapia fisica di decongestione dell'infedema? Consiste in un'applicazione sinergica di più provvedimenti, informativi, educativi e fisioterapici, distribuiti in due fasi. La prima fase ha come obiettivo principale quella della riduzione, ma aggiungo forse ancora più importante, della riduzione della consistenza dell'edema. Mentre scopo della seconda fase, che segue direttamente la prima, ha lo scopo di mantenere nel tempo i risultati raggiunti. A questo tipo di elenco si possono aggiungere altri provvedimenti strumentali, di cui non aggiungo nulla perché oggetto della relazione successiva. La frequenza e la durata del trattamento. Ovviamente è stata ribatita la necessità di personalizzare il trattamento sulla base della stadiazione clinica dell'edema e delle condizioni cliniche del paziente, ma grossolanamente possiamo dire che la prima fase raggiunge il miglior risultato possibile nel minor tempo possibile grazie ad un'applicazione giornaliera di questi provvedimenti e per una durata che può oscillare dalle due alle quattro settimane. Cercando di attingere dati dall'attuale letteratura possiamo dire questo, che sì, è vero, la complessa terapia fisica di decongestione rappresenta il gold standard in ambito riabilitativo per il trattamento dell'infedema degli arti, però è anche vero che tutte queste informazioni sono frutto di consensi, di esperti sull'argomento. C'è poco da un punto di vista di trial clinici controllati e randomizzati. Possiamo soltanto aggiungere che alcuni studi confermano l'efficacia del trattamento combinato ma non riescono a darci giuste informazioni riguardo alla validità e all'efficacia dei singoli componenti a partire dall'infodrenaggio manuale. Sappiamo anche, grazie a questa Cochrane del 2004, come sicuramente è assodato che l'associazione dei provvedimenti che abbiamo elencato in precedenza sono di gran lunga superiori in termini di efficacia all'applicazione singola degli stessi, Ivo compreso il linfodrenaggio manuale e la prestoterapia. Possiamo quindi fare delle considerazioni di carattere generale che possono quindi aiutarci meglio nel affrontare, nel costruire quello che è il trattamento fisico personalizzato. Intanto possiamo dire che la terapia fisica complessa non è necessario attuarla sempre così come l'abbiamo descritta e mi riferisco soprattutto agli stati iniziali della patologia linfatica dove forse possiamo raggiungere una buona gestione del linfedema in minor tempo e con l'introduzione di risorse inferiori. Sicuramente la terapia fisica complessa è una terapia che reclama sia in termini di risorse umane che strumentali alti costi di gestione e abbiamo visto, mi riferisco al tutore elastico, come nel nostro Paese questo sia a totale carico del paziente visto che è al di fuori dal nomenclatore delle protesi e ausili. È ovvio che deve essere personalizzato perché deve tener conto di comorbidità. Mi riferisco per esempio all'infedema secondario, pensiamo soltanto alla gestione dell'infedema nel paziente oncologico e come questo può essere influenzato non solo dall'evoluzione della malattia neoplastica ma anche dagli effetti collaterali che i vari trattamenti radioterapici e chemioterapici possono comportare. Deve essere precoce e in un'ottica assolutamente preventiva che deve essere un po' il faro di tutta la disciplina linfologica. Altro aspetto che mi preme sottolineare come da una ricerca fatta in letteratura non emerga tutt'oggi nessuna evidenza che ci confermi l'utilità dell'impiego di risorse riabilitative ai fini di una profilassia assoluta dell'infedema. Certo è che a questo fine possono essere utili atteggiamenti riabilitativi mi riferisco alla riabilitazione motoria nell'immediato postoperatorio e sicuramente una giusta informazione su quella che è l'entità e il fenomeno della patologia linfatica. Altre considerazioni sempre che possono guidare il riabilitatore nel costruire un trattamento personalizzato. è stato ribadito, è vietato, è sconsigliabile l'utilizzo delle monoterapie in particolare mi riferisco all'applicazione singola dell'infodrenaggio manuale che ancora oggi, almeno nel nostro paese, rappresenta a volte l'unica metodica utilizzata nell'infedema. La fase di mantenimento rappresenta per assurdo forse la parte più delicata in quanto il paziente diventa l'artefice della sua problematica e a questo riferimento vale la pena sottolineare l'importanza dell'utilizzo costante giornaliero dell'indumento elastico che rappresenta, diciamo in termini prognostici, l'elemento fondamentale. Altro aspetto che vale la pena chiarire è il tipo di esercizio fisico che può essere utilizzato e consigliato all'interno della terapia fisica di congestione. Anche su questo aspetto c'è poco o nulla, le informazioni sono diverse e non uniforme, però possiamo fare riferimento ad alcuni studi che sembrerebbero confermare la non correlazione tra l'esercizio fisico contro resistenza e l'insorgenza o il peggioramento dell'infedema. Certo è che in mancanza di dati ulteriori la prudenza non è mai troppa e il consiglio è quello di approcciare nell'infedema degli esercizi sia di allungamento che contro resistenza in maniera progressiva monitorandone costantemente la risposta. Le controindicazioni assolute e relative sono note e vanno tenute presente e per questo la fisioterapia complessa di decongestione deve essere inoltrata ed effettuata soltanto dopo una corretta valutazione clinica e strumentale. In conclusione, riabilitare un paziente affetto dall'infedema a mio avviso non significa semplicemente intervenire sul piano fisico, l'obiettivo non è soltanto e non può essere soltanto quello di ridurre volume e consistenza dell'edema, ma reclama un approccio multidisciplinare e aggiungerei multidimensionale dove è necessario iniziare a prenderci cura anche dell'aspetto psicologico e in particolare della disabilità, è stato già ampiamente sottolineato dal dottor Ricci, ma anche di quello che è il benessere sociale, familiare, emozionale, gli aspetti psicologici legati per esempio all'ansia e alla depressione che il linfedema può determinare in questi pazienti. Io penso che soltanto in questo modo potremmo dare risposta a quell'esigenza di modello bio-psico-sociale tanto caro al mondo riabilitativo moderno. Vi ringrazio per l'attenzione.